Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento l'ultimo lavoro disumanamente grande, anzi il più grande fatto finora, stampato in 3D su ordinazione di un ragazzo, Skeletor, che ce l'ha fatto circa un paio di mesetti fa, e tutto quanto stampato con la nostra Artillery Genius e successivamente con la Ornette, perché il progetto l'abbiamo finito con la Ornette, fatto da mia moglie e potete andare direttamente sul suo negozio, sulla pagina Facebook, come vedete qui, nota a schermo, Electra 3D Print. È stato un lavoro che ci ha portato via circa due mesi di tempo fra stampa e poi ovviamente anche pittura. Il progetto è stato preso da Thingiverse, era un progetto che il nostro cliente, chi ce l'ha ordinato, Skeletor, l'ha trovato su Thingiverse, quindi un progetto gratuito a disposizione di tutti, e gli piaceva particolarmente tanto, perché si parla di una serie di giochi, di boardgame storici, che un po' si sono ispirati, se vogliamo, anche a HeroQuest, che sono la saga di Dungeon & Dragons, il primo, il capostipiti, tra cui è stato nel 2003 un'avventura fantasy. Poi sono, andate avanti, sono succeduti con, se non erro il secondo, dovrebbe essere stato forse questo, Castle Ravenloft, il terzo, la saga di Dritz, le leggende di Dritz. E gli abbiamo fatto questo dungeon per giocare appunto a Dungeon & Dragons, il castello di Ravenloft, che poi comunque nel caso vogliate acquistarlo, se ne parla direttamente a fine del video, vi rimando al nostro negozio sponsor, ed è stato un progetto preso da Thingiverse, diviso in 43 parti, tutto quanto fatto in scala 28 mm per giocarci appunto al GDR del castello di Ravenloft, scusate, al board game, gioco storico, ma soprattutto sono tutti i pezzi della mappa, tutti i tile 2D che trovereste comprando, tra l'altro bellini fatti in cartoncino anche bello spesso, comunque sempre si parla di qualcosa con uno spessore in 2D. Stanza per stanza abbiamo rifatto tutto il progetto, e si va ovviamente dalla scalinata d'entrata, quella di uscita, alle porte segrete, alla stanza dell'alchimia, alle bare dei vampiri, perché poi si parla sempre di vampiri, Ghaul, chi magari mastica anche un po' di Dungeon & Dragons, sa che l'ambientazione del Contestrad di Barovia e appunto di Ravenloft è bene o male, sempre in quella ambientazione lì dove si vedono più facilmente figure appunto, come ve l'ho detto, licantropi, vampiri e cose un po' anche dei racconti di Bram Stoker, mettiamola così. E il progetto ha preso veramente tanto, tanto, tanto tempo, perché non soltanto abbiamo ridotto la velocità di stampa facendolo in FDM, in plastica, in PLA, volevamo dare il massimo dei dettagli, anche perché poi dopo è anche più bello visivamente, ma anche più divertente da dipingere per un lavoro commissionato, e quindi abbiamo ridotto la velocità di stampa e c'è stato un po' più di tempo, però il risultato, come vedete a schermo, nel frattempo dalle riprese è stato veramente spettacolare, è stato tutto quanto dipinto da mia moglie, perché poi il nostro cliente l'ha ordinato, ce l'ha ordinato, stampato e lo voleva anche dipinto, quindi il lavoro finale, poi vedete i ritocchi che ci ha messo mia moglie, ha fatto le colate con un po' addirittura di resina, per far finta che nei fossi si sia un po' sedimentato tutto quanto il liquame che da queste fognature maledette del castello Ravenloft si vanno appunto a riversare in questo sistema fognario interno ed è veramente spettacolare, poi tutti quanti le torce ad esempio alle pareti che mandano il riflesso del fuoco sulla parete e anche su magari gli elementi scenici nelle vicinanze o il pavimento. È stato un lavoro veramente grande che come ho detto ci ha preso 4, quasi 5 bobine, ci ha preso esattamente la bellezza di 45 giorni di stampa, solo di stampa senza contare poi il primer, pittura e quant'altro, ma il risultato come lo potete vedere voi da questo video qui è stato di uno spettacolare e unico ed è stato un progetto grande, lo ammetto ci ha tenuta ferma la stampante per più di un mese, però è stato bello perché mano a mano che lo vedevi venire fuori e vedevi veramente dove arrivava il dettaglio ma soprattutto la bravura del progettista in 3D, del modellatore in 3D che l'ha fatta, a cui va al merito, è stato veramente una cosa disumanamente grande e impegnativa da stampare ma anche bella e ci ha dato una soddisfazione veramente veramente assurda. Io ringrazio ancora una volta Skeletor, grazie di cuore per averci fatto questo grandissimo ordine, se lo volete ordinare, questo come altre stampe in 3D, vedete nota scherbo dal negozio di mia moglie direttamente su Facebook scriveteci e anche link in descrizione, Electra 3D Print e se volete ordinare, come detto all'inizio del video, questo è un dungeon per il board game, per il gioco da tavolo Castle Ravenloft che se lo volete ordinare lo potete fare direttamente dal nostro negozio sponsor, come vedete sempre link in descrizione e in sovraimpressione gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo che se non lo trovate in lista, perché non c'è magari, oppure lo trovate ma è finito, le copie sono finite, comunque scrivete al supporto, a Corrado, il proprietario della gioco libreria semola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo, usate sempre il codice sconto Coridan7 per avere un discount e uno sconto pari al 7% e per spese superiore ai 79€ in 48 ore corriere a casa gratuito, quindi non pagate le spese postali non in Italia ma in tutta Europa, quindi comunque il servizio è eccellente. Io ringrazio ancora una volta Skeletor e fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Io ringrazio ancora un po' cosa ne pensate.